salve a tutti signori benvenuti alla recensione dell'obiettivo con cui sto girando questo video sto parlando del 15 mm f1.7 di panasonic sapete che prima di questo ho recensito il 12 mm ed era un obiettivo fenomenale perché faceva di quelle foto e di quei video impressionanti inoltre aveva una focale di solo 12 mm quindi molto comoda per il grandangolo però questo qui ha una peculiarità praticamente è un terzo di lunghezza rispetto a quello quasi un pancake non ha niente che esca meccanicamente così è e così rimane ed è studiato per quelle mirrorless come questa che mantengono un certo grado di compattezza si tratta di una lente da oltre 500 euro quindi nulla di economico e nulla di scadente parliamo però delle specifiche tecniche 15 mm f1.7 che su micro 4 terzi sappiamo che raddoppiano entrambi un corpo in alluminio molto leggero abbiamo una ghiera diretta per modificare l'apertura oppure lasciarla in automatico abbiamo un'altra piccola ghiera dietro per la messa a fuoco e l'immancabile switch dell'autofocus oppure focus manuale che sta sul fianco la qualità video come già detto all'inizio è quella che state vedendo adesso certo youtube la comprime però come vedete con apertura f1.7 in una condizione di luce non ottimale si ha una finestra davanti però il resto è abbastanza scuro se la cava benissimo ed inoltre c'è un discreto effetto buche sullo sfondo è un 15 mm quindi grandangolare quindi se volete fotografare qualcosa di lontano vi attaccate però per i video è perfetto perché se vogliamo fare una bella inquadratura che prenda tutto quello che vediamo noi con i nostri occhi non è questo l'obiettivo perfetto però ci si avvicina purtroppo il 4k su questa fotocamera e su altre fa un crop veramente pesante in aggiunta a quello 2x che fa già un sensore micro 4 terzi quindi meno millimetri sia a parer mio per quanto si fanno i video più la cosa diventa comoda altrimenti la camera la dovrei mettere là fuori dalla finestra per filmarmi il che sarebbe un po scomodo per quanto riguarda le foto invece manteniamo la medesima qualità sono veramente delle buone foto non abbiamo stabilizzatore quindi mi sono affidato a quello integrato nella mia gx8 l'ho utilizzato anche in macchina per fare delle foto soprattutto a prodotti come capita a me e è stato comodissimo perché non c'è bisogno di allontanarsi e mettersi a un 15 mm che diventano 30 e quindi fa già comodo così ovviamente se utilizzato ad f1.7 c'è la classica vignettatura io preferisco utilizzarlo attorno agli f2 e qualcosa perché intanto c'è molto meno appunto effetto vignetta e è più nitido quindi mi fa comodo lì ovviamente il bucchè cala però non così tanto e quindi secondo me le foto vengono perfette attorno a quell'apertura anche perché f1.7 alle volte fate lo scatto e vi rendete conto che è andato fuori fuoco qualcosa che in realtà volevate a fuoco questi però sono tutti trick da fotografo che poco mi riguardano fatto sta che questo obiettivo fa delle foto veramente belle per la grandezza che ha tra l'altro molto comodo da portare in giro se volete anche staccarlo gli mettete il tappo in realtà il suo tappo è stato ideato molto ingombrante perché è una specie di paraluce ma non l'ho capito bene neanch'io fatto sta che se prendete un tappino della sua grandezza e glielo mettete vi sta veramente in tasca assieme alla fotocamera che poi potete collegare oppure lasciare anche tutto assieme per esempio il pacco con 12 mm più questa fotocamera era qualcosa di abbastanza impossibile da mettere in borsa arrivando alla mia opinione personale io penso che sia comodissimo e che unisca a questa comodità una ottima qualità sia video che foto quindi è un obiettivo che per 500 euro non mi sento altro che consigliare certo panasonic sta sempre un po più alta della concorrenza con i prezzi perché per esempio c'è il 16 mm f1.4 sigma che viene anche meno però occupa il doppio e mezzo di questo obiettivo qui quindi c'è da fare delle considerazioni se preferite la compattezza o se volete andare diretti sulla qualità che comunque non manca a questo obiettivo e avere qualcosa di più ingombrante per questa recensione io ho finito e se vediamo alla prossima ciao 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 ciao